A che punto è l'organizzazione del pellegrinaggio diocesano a Lourdes? Siamo pronti, siamo pronti per partire, abbiamo ricevuto tante iscrizioni, abbiamo ancora qualche posto disponibile per il pellegrinaggio in treno e quindi invito tutti ad iscriversi. Iscrivetevi persone anziane, malate che hanno il piacere di condividere con noi questo pellegrinaggio, le invito appunto ad iscriversi con noi. Come si può fare per iscriversi? Le iscrizioni le prendiamo nel nostro ufficio in seminario a Chiavari al martedì al sabato dalle 9 e mezza alle 11 e mezza, altrimenti telefonando al numero 0185 30 88 15. Qual è il programma del pellegrinaggio in treno? Il treno partirà da Chiavari nel primo pomeriggio di domenica 2 settembre, arriveremo poi a Lourdes al mattino dopo. Avremo poi tre giorni per partecipare alle funzioni, quest'anno presedute dal nostro vescovo Monsignor Alberto Tanasini e poi rientreremo il 7 settembre sempre qui nel Tiguglio. Quali sono i momenti significativi di un pellegrinaggio a Lourdes, i luoghi anche che si visitano? Diciamo che le funzioni principali sono la processione a flambeau, quella la sera con la statua della Madonna e la messa internazionale che raggruppa tutti i pellegrinaggi presenti in quel momento a Lourdes. Ma sono importanti anche i momenti di amicizia, i momenti di condivisione, i momenti semplici. Basta un sorriso per riempire e dare significato al pellegrinaggio. Invitiamo quindi ad iscriversi se c'è un termine? No, noi abbiamo ancora qualche posto disponibile, non più molti, quindi qualsiasi persona che vuole iscriversi lo faccia volentieri.